Quest'anno è stato un anno bellissimo, un anno importante, abbiamo fatto un salto importante anche per Arezzo che spacca, che di solito siamo molto con la cresta abbassata, quest'anno diciamo che siamo felici, è stato bello. Tra musica, incontri e fumetti si è chiusa nello scorso fine settimana l'edizione 2023 di Malpighi Festival, dove i giovani sono stati i protagonisti. Novità di quest'anno, la musica in due sessioni, al mattino la classica. È giusto esplorare in ogni direzione, quindi penso che portare la musica classica in un contesto così particolare sia una scelta vincente, insomma sono molto felice di essere qui. Poi lo show con artisti di fama come Dente, Clevel Gold e Dendlogic. È arrivata sempre allo stesso punto, è sempre un punto di partenza per me, io penso che un artista debba cercare, studiare, ricercare, e quindi cercare di volversi continuamente. Quindi la mia musica è in continua evoluzione, spero che non ci sarà mai un punto di stallo. Il primo pezzo che abbiamo scritto, che ora dirlo così, mi sembra un po' la filastrocca dell'elementare, ma anche perché, non lo so, è il primo pezzo scritto, quindi è anche un pochino più, forse un po' più ingenuo. Diciamo che dice libera, mi sento libera, siamo fragili e vivi, mani che cambiano tutto, libera, adesso libera, tutto è bello e fa male. E diciamo è un pezzo che vuole essere un po' una catarsi, vuole essere, anche musicalmente segue un percorso dove si parte da un luogo oscuro, si va verso la luce, si va verso un'esplosione, e quindi siamo una specie di inno alla libertà. Poi le attività con i corsi di formazione di event management, video making, fotografia, fumetto e ancora teatro. E poi lo spettacolo finale di domenica 23 luglio. È un grande onore essere qui in questo festival, che tra l'altro sono le primissime edizioni, che stanno rivalutando un quartiere, sono un grande onore, soprattutto con grandi artisti come quello di ieri sera, fa piacere condividere lo stesso palco. Un appuntamento insomma ormai consolidato che mette sotto i riflettori le migliori risorse di un quartiere popolare della città. È soltanto un inizio, quindi ci vediamo il prossimo anno.